A proposto le primarie per Milano. Cosa manca alla coalizione di centrodestra per mettere insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, NCD e Lega per governare a Milano come fa in Regione? Io credo che manchi, riguardo a NCD perché il resto non ci sono problemi, la disponibilità di NCD a starci anche se il candidato non è di NCD. Quindi non è un problema di ostilità che in questo momento c'è tra Forza Italia ed NCD per lo strappo di Angelino Alfano? Questo credo che possa starci, però io ricordo che nella storia politica italiana i socialisti stavano con l'ADC a Roma e poi facevano i governi a Milano col partito comunista. Io credo che il problema non sia l'NCD, il problema sia la scelta del candidato sindaco. Se c'è la volontà dell'NCD di partecipare a una coalizione deve indicare qual è il suo candidato e deve togliergli qualunque ruolo a livello nazionale di appoggio al governo, a quel candidato.